Le candidature o liste che vengono messe a punto in queste ore, siamo tra l'altro nelle settimane cruciali, dipendono anche un po' da quello che succederà nel partito? Sì, io questo non lo so, credo proprio di sì. È chiaro che questo snodo potrebbe sbloccare altre situazioni contingenti, anche se De Luca viaggia per una strada sua sostanzialmente. E' lui il partito un po'? E' lui il partito, poi è chiaro gli alleati devono fare le loro cose e proporle al Presidente nella maniera più corretta possibile. La mia eventuale discesa in campo, si deciderà nelle prossime ore, dipende soprattutto da una condivisione con la mia amministrazione, col mio territorio soprattutto, di un'esigenza che è quella di un'esigenza di un normale comune, quasi città di 20.000 abitanti che possa storicamente avere prima o poi una rappresentanza e quindi cominciare a tracciare un solco. Però se non si punta sulle persone e sui territori e sulla rappresentanza degli stessi, non si va lontano. Se si vuole rinunciare a questo, bene, ne prendiamo atto. Se il PD non chiude il cerchio e la quadra, insomma, non torna e tiene a bagno fino all'ultimo istante i candidati o i potenziali candidati, lei che fa? Aspetta. Io la mattina mi alzo alle 6 e vado al lavoro come ho sempre fatto, io dico solo che l'incertezza in politica non ha mai pagato.